Nel periodo 2020, ma anche nella stagione 2020-2021, l'argomento dominante, spinto dalle forze politiche in quel tempo al governo, in particolare dal PD e dalla sinistra, cos'era? Era dopo Covid, nulla sarà più uguale. Questo è uno spartiacque epocale. Quando riusciremo a risolvere il problema dell'epidemia, che dal loro punto di vista sarebbe risolto anni e anni dopo, perché volevano tenere tutti chiusi per anni, la gente si comporterà diversamente. Addirittura le catene di grandi distribuzioni, i grandi mannesi, si erano convinti che gli americani sarebbero più tornati a fare acquisti, nella forma in cui lo facevano. Per cui quando all'inizio del 2021, la grande paura, perché negli Stati Uniti è successo prima, è passata e ha cominciato a girare il vaccino, il ritorno delle persone ha gli stessi comportamenti. Venezia è di nuovo piena di gente. Il ritorno a comportamenti che erano quelli precedenti ha lasciato tutti sorpresi e ha prodotto cosa? Ha prodotto uno sbilanciamento, ha prodotto questa situazione in cui il ritorno al fare le cose di prima si scontrava con una situazione che era stata modificata nello spazio di un anno, un anno e mezzo, due, aspettandosi che non ci sarebbe più tornati a fare le cose di prima, con i famosi blocchi in ceppi nel meccanismo produttivo, la mancanza di lavoratori, la mancanza di offerta, le persone che si erano spostate, che avevano cambiato, le aziende che avevano chiuso, le interconnessioni di fornitura, di trasporto, di servizi che erano saltate. La macchinetta del manufattore in cinese non è che si sia rotta, ma di sicuro si è fermata. E questo è avvenuto anche negli Stati Uniti, questo è avvenuto anche in Europa, è avvenuto anche in Italia. La situazione in cui ci troviamo è frutto del fatto che contemporaneamente, che assieme al PNRR e agli interventi congiunturali di allora, la decisione politica a cui purtroppo le banche centrali, sia americana che europea, si sono piegate, adattate, è stata di distribuire capacità d'acquisto a vanvera, sotto l'assunzione non si capisce cosa, che la gente se la sarebbe tenuta in casa, che non avrebbe mai più speso quei soldi che gli venivano dati. E ovviamente questo non è successo. Da qui è uscita l'inflazione, l'inflazione è uscita dal combinato disposto di una politica che ha deciso di tarpare, trattare drammaticamente l'offerta, il sistema economico, smantellarne dei pezzi, non tutto per carità, smantellarne dei pezzi, perché intanto sarebbe cambiato tutto, e dall'altro lato di buttare centinaia di miliardi in spese e capacità d'acquisto che pochissimo avevano a che fare con il Covid e che erano assolutamente fuori misura rispetto alle capacità dell'offerta. Una volta che la macchina, nell'autunno del 21, a seconda dei paesi, tra l'estate e autunno del 21 e l'inverno 21-22, ha ricominciato a muoversi, è successo loro. Le persone, nelle loro varie forme, sono andate a comprare cose. Queste cose non c'erano, c'erano poche, arrivavano in ritardo, e chi vendeva ha utilizzato il sistema dei prezzi come naturale per rispondere a questa reazione. Grazie. Grazie.